Ciao a tutti, io sono Alessia, io sono Kiki e benvenuti su Dreaming of Korea Oggi reaction alla terza puntata della seconda stagione di BTS in the Soup Però prima di cominciare, prima di cominciare, volevamo congratularci con i Bangtan per aver vinto Liyama E per essere stati candidati per il secondo mano consecutivo ai Grammys Woooo, ciò candidat! Detto ciò, ci vediamo per la reaction Are you ready? Let's go! BTS in the Soup Inizia una nuova mattinata in the soup Jakey è tutto a posto? Jakey si sveglia così Non ti fare domande Arrivano... Anzi, John! Come lo chiama? J-Hope Perchè? Aspetta, vediamo quella cosa fa Secondo me si butta in piscina Perchè? Io ti voglio bene Ti adoro Giri che si avvicina lentamente Voglio assaggiare anche io No, ma la sua espressione Ma... 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 Ma Nanjoon che mi russa No, la sua faccia... Perché pensavo di trovare Jimin, mi sa Ma dentro che trova pure... Che è successo? Quando? Perchè? Giri che tipo, entra nella stanza Dov'è Jimin? Jimin si è trasformato Non è Jimin Mi spaventa, non lo voglio svegliare Però non è lo stesso Jin ha il terrore di Nanjoon Perchè tipo, ogni tanto, vabbè, tutti sappiamo che Nanjoon comunque E' chiamato anche il distrutore E tipo, mi ricordo tantissimo Uno dei primi episodi di Run In cui tipo, dovevano, sai, erano seduti, dovevano fargli solletico Allora avevano acqua in bocca Cercavano di... Si, me lo ricordo E tipo, era il momento di Nanjoon Jin si avvicina Tipo, aspetta, ti prego, non alzare le mani Non darmi i pugni Dobbiamo ridurre le mani Non mi gioco, non mi gioco Sì, sì Poi, adesso No! Sì, sì, sì Sì, sì Poi, adesso, adesso Abbiamo un altro modo No, non lo dico più perché ho paura che mi svegli anche lei in quel mondo I mani i pixo, i traumi Io non ho fatto niente Oh la voccina di Jimmy Perché tutte le loro voci sono carine Anche quando si svegliano E quando si svegliano Però di giorno non è che Non so quanto si veda col telescopio L'unica cosa che puoi vedere Sono gli uccelli che volano lì su Come i bambini Tutti affascinati Wow il nuovo giocattolo Te l'ho detto che è l'unica cosa che potranno vedere gli uccelli Oddio Come salta Oddio Bassa È troppo carino Jimmy Ti svegliano C'è che è Con i capelli Tipo Disparati Ah no era con la cosa Ma poi Mamma, innamorato Jacob si è sempre più confuso della vita Hai bisogno di me? Si è di una mano Secondo me li ha montati al contrario No No vabbè Aveva ragione che li ha montati al contrario In un minuto Jimin ha risultato la situazione E come sempre Jacob in love per Jimin Intanto Jacob lì Aspettavo Big Hit Se vuoi Una che sa ballare Chiamatela per favore Gomia, ripetemi Il mio numero è 0089 Cut Gomia Anche Bam che vuole mangiare Io adoro questa cosa La condivisione del cibo Lui che prepara qualcosa agli altri Questa cosa è una cosa strabella Perché appunto Non li vedi come Per me non sono un gruppo musicale Sono una famiglia È una cosa bellissima che vedo Poi comunque Jacob è sempre stato Il ragazzo tenerone Quello che dà molto affetto ai ragazzi J.K. E' tipo Io prefisco giocare con le macchine vere Vado a giocare con le macchine vere Non sono un bambino come voi Gioco con le macchine vere Ok J.K. Ti bai se lo mette sotto Vum E poi me l'aspettavo guarda Diciamo che Era partita bene Anzi non proprio bene Ma sta finendo peggio Non è che hai imparato J.K. Mi sembra bam Quando non avrà qui Mi spezza Contro il C Contro il B Allora Big Hit Cioè Non potete copiare Vi ho capito che guardate i nostri video Però anche meno Eh capito Cioè Giochiamo seriamente adesso Cheat Giochiamo seriamente adesso Giochiamo seriamente Cheat Namjoon che ancora legge È una delle cose che amo di Namjoon Il fatto che è un tipo che vuole conoscere Cioè non si ferma al classico appunto Perché ormai si sa che ormai tutto si cerca su internet Quindi la via è più facile per cercare informazioni O per avere informazioni L'ho detto Informazioni Però lui non si ferma Perché va a cercare libri Legge Cioè La sua curiosità nel conoscere nuove cose Non si ferma soltanto Non si ferma Questa è una delle cose che Veramente stimo molto di Namjoon E che Cioè io Veramente spero che In questo mondo ci siano più persone come lui Esatto Perché Niente Perché siete delle personcine speciali Esatto Quindi Vi voglio bene Il mio numero è sempre Il vero del Stop it Anche Suga Anche Suga si mette a leggere Cute Ragazzi se volete fare un club del libro Sotto c'è il mio Instagram IBM Facciamo un club del libro Ci contiamo Mi raccomando Allora Io lo amo Allora Cioè loro seduti Seduti Scalzi Con il silenzio E si dì Gin che urla E che gioca Comunque La situazione Cioè secondo me Gin Sta entrando in letargo Perché Non cucina più È la vecchiaia Non cucina più No no Basta È la vecchiaia 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 È la vecchia Grazie a tutti.